buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo arriete evitate ogni polemica fate in modo da ascoltare e non replicare anche se non siete d'accordo toro basta piangervi addosso pensate positivo e cercate di migliorare gemelli vi sentirete allegri e contenti buoni contatti con le persone della bilancia cancro datevi da fare potrete raggiungere ottimi risultati se vi concentrerete leone messaggi strani sul cellulare giove vi pungerà curiosità e indagherete vergine ottima intesa con capricorno e a riete solo attenti alle loro impulsività bilancia idee giuste e buon umore caratterizzeranno la vostra giornata scorpione marte mercurio possono eventualmente influenzare la vostra giornata rendendola leggermente nervosa sagittario passerete momenti magici ma anche di piccoli tristi ricordi capricorno telefonate e messaggi in arrivo acquario questo sarà un bellissimo giorno ottimismo amore e tanta allegria pesci dovrete iniziare una vera e propria rivoluzione della vostra vita questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo